Tutte le settimane, come vanno le cose? Ci riempiremo di danaro? Devo preoccuparmi, preparare la pala davanti alla porta di casa per gli spicci che mi impediranno di uscire? Ma sai che di queste cose ne parliamo da anni, voglio dire, c'è una vexata questio, se dovessimo credere alle cose che pubblicano i giornali dovremmo vedere le vasche da bagno degli italiani riempite da Dobloni. Come paperonde e paperoni. Non funzionano esattamente così le cose, i cosiddetti contributi europei hanno un significato molto diverso del quale abbiamo già trattato. Ma quello che a me interessa osservare è il fatto che mentre i cittadini italiani e un po' di tutto questo continente sono inondati continuamente da informazioni propagandistiche circa il fatto che stiamo andando verso quella che gli antichi chiamavano l'età dell'oro, ecco io non la vedo questa età dell'oro, anzi nei dati che se ci sarà tempo vi farò vedere di tipo macroeconomico, al contrario noi continuiamo ad avere problemi sulla pressione fiscale, sul costo del lavoro, sull'occupazione e via discorrendo. Ora in realtà penso che ci sia una volontà da parte delle persone di ritornare un pochettino al silenzio. Ecco, questo Fabio è quello che io sto avvertendo e questa mia posizione un po' isolazionista verrebbe definita in altri momenti storici, cioè di staccarvi dalle questioni contingenti, alle quali poi non rifuggo, perché fra pochi minuti vi faccio vedere i grafici. Ma come uscire da quella situazione? Ci sono solo due vie possibili. La via di uno statista che venga e cambi la rotta e la via di, io non sono uno statista, uno come me che invece si chiude nella propria biblioteca a trovare conforto nei libri, nello studio e nella ricerca di una soluzione molto pratica, devo dire, per le proprie vicende economiche e vedo che molte persone mi stanno seguendo su questa seconda strada. Ecco, quindi voglio dire, che speranze abbiamo noi di migliorare la nostra condizione? Cioè tu dici, ci vorrebbe uno statista, insomma, non un banchiere, e noi lo diciamo sempre, ecco, e ripetiamo fino allo sfinimento, non ce ne voglia il Presidente Draghi, insomma, non ce l'abbiamo, con lui ci mancherebbe grandi meriti alla sua carriera. Però, voglio dire, fai il banchiere, fai il banchiere, quindi avremmo bisogno di uno statista non banchiere, immagino. Non è un fatto, diciamo, della persona. No, certo, assolutamente. Ho criticato la scelta del Professor Draghi in tempi non sospetti, quando, diciamo, ancora qualcuno non era schierato, però oggi non ne vedo praticamente più nessuno schierato contro, quindi credo di essere rimasto tra pochissimi. Ma, ripeto, non è una questione dell'uomo, che evidentemente è, dal punto di vista del curriculum, il più brillante economista italiano. Il problema è un altro, la credibilità internazionale, che è sostanzialmente il soldo speso su questa scelta, in realtà sconta un'altra questione, che è la linea politica. Se la linea politica è quella di sostenere il mondo delle cosiddette corporate, e chi vi parla è un docente di corporate strategy and governance, quindi che cos'è il mondo corporate? Il mondo corporate è il mondo della grande impresa, è il mondo della multinazionale, è il mondo della globalizzazione. E quindi basta leggere i documenti, diciamo, economici, gli ultimi scritti. Io li ho citati, Fabio, proprio grazie alla tua radio, che continuo a ringraziare per la prima volta. Sono stato uno dei primi in Italia che l'ho evidenziato. Andiamo a leggere il programma economico prima che il professor Draghi fosse presidente del Consiglio, mi riferisco a, se non ricordo male, dicembre 2020, quindi più o meno un annetto fa. Il documento era Reviving and Restructuring in the Corporate Sector Post-Covid, cioè come ristrutturare e rilanciare il settore del mondo corporate dopo questa pandemia che stiamo vivendo. E dentro, chiunque lo vada a leggere, lo trovate, credo sia ancora in rete, basta digitare gruppo 30, cioè il gruppo dei 30 banchieri più influenti del mondo, che sono quasi tutti ex banchieri di banche centrali, comunque persone di grandissima competenza economica. Ma la scelta politica, intendo per politica la politica economica, è chiara. E ci sono due concetti. Primo, dato che queste, tra virgolette, riforme sono quelle che Churchill avrebbe chiamato lacrime sangue, cioè sono delle cose che hanno un impatto sulla società civile, molto pesante, cari politici, fatele fare da noi banchieri. Perché? Perché noi banchieri non abbiamo la possibilità di essere contestati, diciamo, da una base elettorale. Questo è scritto, non proprio con questo linguaggio, ma abbastanza chiaro all'interno del documento. E secondo, se dobbiamo difendere, diciamo, l'economia, non possiamo salvare tutti. Quindi il mondo delle cosiddette SMEs, cioè le small and medium enterprise, si deve adeguare, si deve ristrutturare, deve cambiare e se non ce la fa, peccato. Ecco, in questa sorta di darwinismo economico c'è una precisa scelta di campo, che non è più quella che, diciamo, negli anni Ottanta veniva visto come lo slogan piccolo e bello, l'italiano che esporta, l'italiano che va con la valigetta, il piccolo imprenditore che gira con il mondo, con la creatività e via discorrendo. Ma è invece, ve lo dice uno che per tanti anni si è occupato di corporate finance, il concetto che piccolo è nano. Cioè, esiste nel modello di rating un ratio che è il debt equity ratio, cioè il rapporto tra il debt, che è il debito finanziario, e l'equity, che è il patrimonio netto. Le imprese italiane, dato che hanno poco patrimonio netto, cioè hanno poca, diciamo, struttura proprietaria, nel mondo finanziario internazionale, secondo questa visione delle cose, sono destinati a soccombere. Quindi devono crescere di dimensione. È una vexata questio. La domanda che io pongo è, ma come mai le imprese italiane non avevano questi problemi fino più o meno al 1995, 96, 97? Io trovo curioso che esattamente in quegli anni, quando nei primi anni 90 noi eravamo estremamente competitivi, soprattutto nei confronti di Francia e Germania, basta leggere il Corriere della Sera di allora, ecco, guarda caso, quando noi ci agganciamo prima all'eco e poi all'euro, perdiamo di competitività. E questa vexata questio della competitività italiana è stata travisata, facendo apparire un popolo di 60 milioni, un po' come smidollati, un po' come le cicale di antica memoria delle favole, quelli che sono abituati a consumare e non a risparmiare, che è paradossale, perché invece gli italiani sono il popolo, se volete, mondiale, ma certamente europeo, che ha il più alto livello di risparmio negli anni, tanto è vero che la casa è, credo oggi, di proprietà dell'Italia per circa l'80%, quando Francia e Germania hanno percentuali che sono tra il 40 e il 50%, quindi è chiaro che c'è tutta una leggenda, diciamo, di pensiero unico internazionale che ha l'interesse a farci apparire come spreconi incapaci di produrre e via discorrendo. Non si capisce come mai gli imprenditori italiani siano diventati tutti incapaci, ripeto, dopo che sono state cambiate le regole del gioco, che sono fondamentalmente legate ad un cambio fisso che ovviamente ha scaricato sulla, diciamo, deflazione salariale quella che una volta era una svalutazione della moneta. Ecco, il discorso sarebbe lungo, ma in poche parole un po' penso che sia questo. Poi se vuoi ti faccio vedere dei grafici. Adesso li vediamo, quindi non è, Valerio, un darwinismo, è un'intenzione specifica di far morire le piccole imprese e per lasciare spazio al grande player. Insomma, l'ascesa di Amazon durante il lockdown a danno dei piccoli negozi di quartiere, di città, ma anche nelle vie più importanti, è evidente. È chiaro che lì hanno guadagnato miliardi, qui le vetrine sono ormai spente, chiuse, morte, insomma, e quei locali ricomprati per farci altre cose. Quindi c'è una volontà precisa, non è darwinismo naturale, voglio dire, no, è una volontà precisa delle élite che hanno messo anche nei posti politici i loro uomini migliori. Quello che hai detto è un elemento centrale, Fabio, cioè in economia non c'è nulla di naturale. A partire dai testi di Adam Smith che spiega che gli uomini, a differenza dei levrieri, si scambiano degli oggetti, mentre non si è mai visto un levriero che si scambia un osso con un altro levriero. Tutto quello che avviene in economia, a differenza di quello che raccontano, non è nulla di naturale, neutro, oggettivo. È sempre una scelta politica, perché l'economia è fondamentalmente una scelta sulla distribuzione della ricchezza da A a B. Quindi se io decido di privilegiare B piuttosto che A, non c'è una legge assoluta. Ma guardate le cose che ci hanno raccontato per 20-30 anni, il rapporto debito-PIL assolutamente non può superare il 60% e poi dopo improvvisamente diventa il 100%. Perché? Perché non sono leggi scritte, sono assolutamente delle scelte di natura politica. Ma quello che è importante è, piuttosto che dire lasciare morire le piccole imprese, io direi in modo più sfumato, oggi scusami se sono troppo moderato per i tuoi gusti Fabio, scherzo naturalmente. Sto scherzando, non mi avete portato a mangiare la gricia, quindi ce l'ho con il tuo. Francesco, ce l'ho con Francesco. Voglio dire questo, che più che lasciare morire le piccole imprese, lo dico da studioso del corporate strategy, l'approccio mondiale è una sorta di vivace coercizione. Cosa vuol dire in questo? Vuol dire che se il piccolo imprenditore italiano non si mette a capire lo stesso linguaggio, le stesse regole, gli stessi comportamenti, le stesse cose che fanno nel mondo corporate, rischia di rimanere al palo. Questa cosa qui la fanno con una riforma, che è la riforma del mondo finanziario. Perché? Perché le riforme di Basilea sono riforme che non tengono conto delle peculiarità italiane, del fatto che noi, a differenza di altri paesi, abbiamo circa un 99% tra piccole, medie e micro imprese, quindi il nostro tessuto è però pesantemente fatto da micro imprese, quindi rispetto a quel dato di sottocapitalizzazione si aggiunge un altro dato italiano che è il cosiddetto family business. Cioè quello che voglio dire è che qui c'è un problema sociale e lo dico perché il mondo politico spero che ne tenga conto. Il problema sociale qual è? È il fatto che se tu hai uno Stato come l'Italia, dove di fatto l'impresa e la famiglia sono la stessa cosa, se muore l'impresa o lasci morire l'impresa per inedia di liquidità, perché non c'è mai stata tanta liquidità nel sistema come oggi eppure arriva col contagocce alle piccole imprese per ragioni di regole, beh in realtà tu stai lasciando che muoiano delle famiglie, famiglie di imprenditori e famiglie di operai e di dipendenti che lavorano per questi piccoli e micro imprenditori. Il messaggio qual è di quei documenti è o voi vi mettete e di banche e di finanza come facciamo noi oppure siete fuori dei giochi. Per esempio la partita finanziaria bancaria nelle piccole imprese, parlo di banche perché il nostro è un sistema bancocentrico come tutti sanno, è gestito di solito dalla moglie dell'imprenditore, dalla figlia, dal fratello, dal cugino, cioè non c'è un vero e proprio manager finanziario nel mondo delle piccole imprese. Questa cosa qua fino a qualche anno fa poteva reggere perché c'era un rapporto di conoscenza della persona nel mondo bancario. Io conosco il tra virgolette direttore di banca. Oggi quel modo di comportarsi è come andare in giro vestito di pellia con la clava perché le regole sono cambiate, quindi ci vuole un manager che gestisce queste cose e non sempre le piccole e micro imprese soprattutto possono permettersi di pagarlo. Quindi l'unica alternativa è quella di studiare, imparare e fare da sé e non è facile in questi tempi nei quali le imprese navigano a vista e già sono in difficoltà per una serie di ragioni congiunturali per la materia della quale, come sai, io non parlo, però gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Se a questo aggiungiamo delle regole che sono regole di economia capitalistica, cioè spietate e improntate alla regola dell'efficienza, non consideriamo le regole dell'economia umanistica che sono improntate invece all'elemento della giustizia. Bene Valerio, interessante. Pino, hai seguito quello che ci dice il professor Marvezzi? Sì, condivido totalmente la sua analisi proprio sul sistema, sul funzionamento dell'economia italiana, sulle priorità che sono state date negli ultimi anni e sul enorme sacrificio che qualcuno vuole fare dell'impresa piccola, dell'autoimpiego, dell'economia di prossimità, dei piccoli campioni di imprese che hanno fatto grande la cosiddetta terza Italia, che veniva esaltata un tempo e che oggi viene ricompresa invece in un reset dell'economia che non contempla questa dimensione. E questo è molto pericoloso perché snatura profondamente la società e l'impresa italiana. In tante generazioni si è accumulata una ricchezza che si è trasformata ad esempio nella sicurezza della casa, ma si è trasformata anche in relazioni familiari di un certo tipo o in imprese che erano molto flessibili sino a poco tempo fa per reagire alle grandi crisi. Ma anche efficienti nel servire prodotti di altissima qualità. Noi abbiamo una moltitudine di prodotti italiani meravigliosi proprio per questo motivo. Era forse proprio il punto di forza, questo frazionamento che poi generava una sorta di competizione interna. Lo faccio meglio io? No, lo faccio meglio io? Però si dava proprio tutto per dare all'utente finale quella qualità italiana che ci ha fatti famosi nel mondo e che poi invece oggi non troviamo più. Valerio, non è un'analisi interessante anche da questo punto di vista? E poi andiamo subito ai tuoi grafici perché siamo in ritardo. Valerio, che ne pensi? Sì, assolutamente sì. A questo aggiungo che il problema dell'uomo italiano, ti leggo un testo che ho qua sulla scrivania, è un testo del Decivitate Dei di Sant'Agostino, 4.23.17, che dice, carere non potes fame qui panem pictum lingit, cioè non può saziare la fame chi lecca un pane dipinto. Ecco, io penso che gli italiani oggi sono trattati come dei cani che leccano un pane dipinto. Lo dico forse in modo brutale, però questo pensare che ci sia la mamma Europa buona che ci dà da mangiare, io penso che sia un grande inganno che un giorno capiremo, perché i dati macroeconomici ormai da 25 anni ci disegnano un quadro che soltanto chi è di parte può pensare di non vedere.